Ciao a tutti, il rituale per togliere un maleficio. Segui il video per annullare le negatività. In questo video voglio fare un rituale che ti consentirà di annullare le tue negatività, ti consentirà di togliere eventuali malefici e ti consentirà di essere in armonia con te stesso, con te stessa e con tutto quello che ti circonda. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video e se vuoi delle risposte precise mirate alle tue domande devi semplicemente andare ad abbonarti al canale. Abbonandoti al canale potrai ricevere delle risposte mirate alle tue domande. Allora, per togliere un maleficio che può esserti stato mandato da qualcuno devi creare uno schermo, uno schermo fondamentale, uno schermo molto importante. E allora ti chiedo questo, ti chiedo di metterti in una posizione comoda voglio farlo praticamente con le spalle rilassate, le braccia rilassate e chiudere fortemente gli occhi. Resta con gli occhi chiusi. La prossima volta potrai fare questo rituale soprattutto quando sentirai che c'è una forma di stress una forma di qualcosa di negatività dentro di te le negatività ti aiuteranno a togliere il rituale ti aiuterà a togliere ogni forma di negatività quando questo è presente. Se non è presente la negatività comunque andrai a creare uno schermo protettivo. Ora chiudi gli occhi e ascolta il suono della mia voce e mentre ascolti il suono della mia voce e ti rilassi iniziamo a fare un rituale di invocazione che permette di togliere ogni negatività ogni maleficio per fare questo ci rivolgiamo a una divinità sotto controllo che è la divinità che riguarda un po' la luce il dio Falco il dio Horus io invoco il nome di Horus per attraere nella mia vita luce ed energia positiva la luce di Horus entrando nella mia vita e tu devi ripetere esattamente queste affermazioni toglie ogni traccia di rituali e di malefici che mi furono imposti continuo a ripetere continuo a ripetere nel nome di Horus io mi purifico nel nome di Horus elimino ogni traccia di maleficio ogni traccia di negatività che mi furono imposti e continuo a respirare tranquillamente entrando in uno stato di rilassamento sempre più profondo immagina che ad ogni respiro la luce emessa da Horus che puoi immaginare davanti a te sotto le sembianze di Falco di un potente e maestoso Falco che inizia a muoversi attorno a te un Falco di energia che inizia a colpire ogni forma di negatività presente dentro di te e ad ogni ispirazione ti proteggi sempre di più ti proteggi sempre di più e diventi tutt'uno con il Dio Falco diventi tutt'uno con il Dio Horus e puoi affermare in piena consapevolezza queste parole per il potere della verità ti elimino maleficio che non mi appartieni torna da chi ti ha mandato e resta per sempre da lui ti elimino maleficio perché non mi appartieni torna da chi ti ha mandato e resta per sempre da lei respira tranquillamente e ad ogni ispirazione esce fuori un fumo nero carico di tutte le negatività carico di tutte le forze del male e questo fumo nero è attratto come un come attrae un potente magnete da chi l'ha creato questo fumo nero torna dal suo padrone torna da chi le ha inviato e tu ti rilassi sempre di più e il tuo corpo diventa un corpo di luce e adesso fai tre respiri profondi trattenendo l'aria alcuni istanti e poi ispirandola fuori fino in fondo con la bocca e al termine di questi tre respiri profondi sentendoti bene tranquillo tranquilla rilassato rilassata libera libera libero da ogni maleficio apri tranquillamente gli occhi e niente nessuno potrà più ferirti niente nessuno potrà più lanciarti delle maledizioni perché torneranno automaticamente indietro e adesso sentendoti di buon umore fai ancora un profondo respiro e poi ritorna alla tua attività iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video seguimi sulla pagina instagram massimoteramasco e se vuoi abbonarti puoi andare nella voce abbonati e abbonarti per ricevere risposte in diretta alle tue domande ciao a tutti